e ragazzi come va io sono feri niki e io sono stef e questo è gioco ma youtube e andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono anna super royal emma carlo alice sebastiano ciao ragazzi grazie mille per la condivisione e vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi e siamo qui su youtubers life allora gli obiettivi del giorno saranno quelli di completare la speed run che il nostro network ci aveva chiesto perché sono molto esigenti bisogna stare attenti e come seconda cosa ovviamente cercheremo di invitare armani a casa per riprenderlo come nostro collaboratore finalmente esattamente sono due cose importantissime siamo in pausa perché non possiamo sprecare neanche qualche ora del gioco assolutamente perché la speed run va fatta e secondo me sarà dura io non so se ci riusciremo ma ci proviamo sei pronta allora siamo qui abbiamo tre registrazioni del gioco in ballo quindi dobbiamo trovare subito di nuovo loro due e rimetterli subito a registrare un altro video perché bisogna correre a quanti siamo sei o nove io non mi ricordo più secondo me sei che poi abbiamo pure questa come wall true da fare non ce la faremo mai è strano perché le speed allora ricordiamo proprio che le speed run e le wall true vengono intese come una cosa da fare dopo che hai fatto i gameplay quindi non le puoi fare subito altrimenti le persone proprio ti distruggono di dislike e di commenti negativi è un po' particolare è un po' particolare è un po' strano secondo me quelli che hanno fatto il gioco non giocano i videogiochi non hanno capito bene come funziona oppure forse volevano mettere qualcosa di un po' più complicato per rendere una sfida anche il registrare anche secondo me è più quello il motivo e hanno fatto questa interpretazione un po' particolare di quello in ogni caso dobbiamo mettere anche se le uniche registrare tutti arriviamo a 8 quindi secondo me a quel punto possiamo provare a fare tipo 2 3 wall true il tempo che abbiamo e poi proviamo la speed run quindi dici che la speed run va fatta anche dopo la wall true proprio dopo ho quel presentimento non ne ho la certezza ma ho quel presentimento scusa un attimo devo chiederti una cosa importante mi ricordi la data cioè che limite abbiamo ce l'abbiamo 4 l'ho lasciato carino in basso a sinistra allora allora io lo so che non si vede dalla webcam ma qui ho tutta l'asta del microfono quindi io non vedo la parte sinistra del mio monitor nessuno ti giustifica mi dispiace comunque siamo al 17 abbiamo entrato il 22 e dobbiamo essere molto veloci qua quindi noi non guardiamo più nulla niente nessuno clicchiamo velocissimi e ci muoviamo molto spediti altrimenti non ce la facciamo guarda vedi che la wall true se la fai dopo i tanti gameplay funziona benissimo è la prima volta che vediamo una cosa del genere perché l'avevamo provata tempo fa però ovviamente era fallita perché l'avevamo fatta direttamente senza prima fare i gameplay guarda anche qua hai visto l'interesse quanto è alto ok è il nostro momento è il nostro momento proviamo a speedrun perché ormai ragazzi è il 20 quindi dobbiamo averlo già c'è il 22 deve essere proprio pubblicato quindi non possiamo aspettare oltre e deve aver già fatto le 20 e le 600 mila scusa mi stavo perdendo 22 hai ragione in effetti deve anche già aver fatto quelle visualizzazioni forse allora già non facciamo in tempo così è andata malissimo è andata malissimo è terribile zero di interesse direi che il nostro piano ha decisamente fallito ragazzi niente da fare probabilmente le wall true devono essere almeno sei o sette proprio come gameplay dici che devono essere ma allora è impossibile soddisfare una richiesta però 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 magari riusciamo a fare le visualizzazioni vuoi dire no se avessimo avuto armani avremmo fatto in tempo perché se abbiamo stati quattro registrazioni alla volta capito abbiamo lasciato il posto libero per lui non abbiamo ancora preso nessun altro è complicato dobbiamo riuscire a riprenderlo vedi perché questo è un problema e se non soddisfiamo le richieste del network veniamo bannati di nuovo ricordati che siamo già stati bannati no ecco qua ecco qua ma oggi va tutto male guarda la proposta del network che ci sgrida armani che ci dice che non siamo più di nuovo non siamo più loro il suo amico non so come esatto non siamo più amici non siamo più amici bravo mi stavo mi stavo impappinando ed è andata tutto male c'è che brutto inizio guardate quanti non like ci siamo presi cioè ci stiamo prendendo guarda guarda questo video orribile non provare più a registrare un wall true di un gioco uscito da così poco tempo peccato che non è una wall true ha 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 se questa persona youtuber io sono batman questo video di oligoblin non mi piace se non sei un esperto del gioco non metterti in ridicolo ma che vuol dire prima di sentire una speedrun dovresti fare una wall true vedi questo è quello che ti dicevo ok allora vi ricordate l'altro obiettivo arrivare primi su youtube diventare i numeri uno e guardate la classifica da quel che sembra siamo terzi no sì siamo terzi forse eravamo i terzi nel gameplay non lo so ricontrolla quella prima non lo so non lo so guarda ci siamo neanche per ora siamo messi malissimi siamo ah no vedi ci fa vedere i due sopra di noi il quarantanovesimo e il quarantottesimo il più grande a due milioni e nove quindi non è così tanto lontano beh noi siamo a un milione e sette quindi sì non è poi così lontano soprattutto perché guarda la wall true di ervin in questo momento un milione e mezzo di visualizzazioni ervin ci dà sempre un sacco di soddisfazioni è bravissimo bravissimo abbiamo così tante video che vedi uno l'abbiamo distrutto non posso più vederlo neanche come va oh no abbiamo avuto un problema di copyright io ci ho provato ed è andata malissimo aspettando l'abbiamo mai vista sta cosa questo video ricevuto una notifica che significa che c'è un'infrazione del copyright risolvi il problema non ricevere nessun guadagno dai tuoi video ok io direi chi di aiuto al network no siccome il network è il 90% ci paghiamo la penale sinceramente dici che tanto siamo pieni esatto 360 sinceramente cosa ce ne frega e invece vedi io con ervin vorrei potenziare il video mettendogli la cosa che viene guardato di più ne abbiamo fatti troppi ma non posso non è contemplato mettere così tanti video a fare però guarda non li promuoviamo tutti perché così aumentiamo gli iscritti ragazzi e ci avviciniamo a quelli che sono nella vetta su youtube uh sì andiamo alla festa sì 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 alla festa ci andiamo assieme ad ervin perché cerchiamo di rincontrare armani cerchiamo di rincontrare armani sta succedendo di tutto in questo momento allora muoviti muoviti hai pagato anche le spese mensili 5000 e passa c'è tantissimo stanno diventando lo so ma tanto noi guadagniamo un sacco di soldi cioè il nostro sterinichi guadagna un sacco di soldi esatto allora poi guarda è perfetto sfruttando quella del copyright diventa davvero perfetto poi dobbiamo potenziare un pochettino questo come sempre l'audio è andato davvero male quindi lo potenziamo un sacco e guarda questo video bellissimo interesse 8 ok di nuovo cacciati dal network ci siamo dimenticati di uscire prima che finisse il mese ci sono troppe cose da fare non possiamo ricordarci tutto vabbè pazienza allora quindi di nuovo perderemo iscritti perché per la speedrun era ancora troppo presto sì grazie veniamo volentieri a casa tua ci sta capitando una cosa dopo l'altra no grazie altro calmiamoci un secondo un secondo tutti calmi ok adesso dobbiamo andare alla festa devi meditare ok hai meditato abbastanza sì tantissimo ok bravissima guarda ciao sterinichi ti ho comprato una sorpresa pulp friction arriverà presto caccia preso un post un qualcosa non lo so allora calmi calmi c'è pure il problema di copyright risolvi paga penale perché non siamo più tanto potevamo non farlo uscire direttamente quel video da quanto è brutto diciamocelo pazienza almeno abbiamo capito che le speedrun vanno fatte dopo tanti episodi di world review di ci siamo tolti il dubbio comunque cerchiamo armani perché siamo andati alla festa solo per questo motivo se non c'è guarda me ne vado via subito e non c'è io non lo vedo tu lo vedi calma 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 magari è un po' nascosto no siamo andati in altro parti e guardate chi c'è c'è tessa e abbiamo anche già visto armani in un angolino ma lo sai che io ti dovevo dire una cosa importantissima lo sai che tessa commenta addirittura nel nostro canale reale e ci confessa tutte le cattiverie quindi le nostre teorie sono sempre giuste perché lei che fa tutte le cattiverie guardala lì non ci possiamo neanche parlare da quanto la odiamo quindi vuole ha capito che siccome noi abbiamo più potere di lei nei giochi vuole sabotare il nostro canale reale è arrivata tutto questo assolutamente andiamo a parlare con armani guarda lo sta già parlando con un altro non vorrei che poi inizi qualche collaborazione con qualcun altro parliamo con lui hai ragione allora dobbiamo riuscire a completare tutta questa barra ok no stanno parlando mi sono spaventato anche io mi sono spaventato ho letto quel me ho detto oddio non ci vuole più parlare guarda possiamo addirittura ballare con armani dai armani ricordati i balletti che facevamo assieme su ricordati no 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 ok ok non è molto convinto poverino ha iniziato il balletto ci è rimasto malissimo l'ha visto l'hai visto comunque oggi ce lo dobbiamo riprendere per foto ma continua a rifiutarci quindi non capisco non capisco cosa fare mancano solo due minuti mi sa che anche questa volta non riusciamo a far tornare indietro armani ok ci hanno invitato per citarci in un video quindi essendo a no vabbè facciamo i due milioni ancora prima guarda due milioni abbiamo fatto due milioni bravi bravi bravo stai diventando numero uno bravissimo bravissimo erwin e lasaria attenzione vediamo non sottolineare il fatto che stere niki non registra mai o che non farlo rimanere male non farlo rimanere male allora ti devo far vedere un po' di cose prima di tutto ho 15.000 iscritti un po' deludente vabbè per atto non possiamo pretendere molto quello è one punch man giusto ci hanno chiesto di pubblicare una collaborazione di questo gioco prima del 20 dicembre le collaborazioni sono facili una proposta che possiamo rispettare del nostro network questo è un momento importante perché per una volta loro non rimarranno delusi da stere niki allora lo facciamo subito perché ogni volta ci cacciano no prima dobbiamo dormire e mangiare perché siamo messi malino con le lampadine esatto e ve la facciamo che poi non c'hanno specificato con chi farla io direi di farla con erwin perché a zaria a me a zaria continua un piacere devo essere sincero anche a me la teniamo solo perché abbiamo rapito la gemella di testa fino a quando non scappiamo nello spazio la dobbiamo tenere poi magari la licenziamo vediamo un po' dobbiamo decidere la farsi sì anche perché non siamo molto convinti di lei ci sembra una persona un po' sospetta come abbiamo già detto quindi esatto ti di ripeto la teniamo solo perché è un ostaggio poverina allora quindi facciamo quest'ultimo gioco che abbiamo che non è più cioè ci hanno chiesto di fare questa cosa vabbè e dobbiamo farci 800.000 views ti serve un amico e ce l'abbiamo l'amico ok ci fermiamo qui per questo video guardate un po' siamo saliti un altro pochettino in due posizioni siamo saliti loro erano davanti a noi e ora stanno sotto di noi che cattivo che sei che persona cattiva però la prima è arrivata addirittura a 3 milioni questa pretty broadcast che si chiama Yarely ci sta dando filo alla torcere che poi in realtà guarda ok ti accolta 53 milioni di visualizzazioni noi ne abbiamo 72 milioni quindi vuol dire la tevo già battendo vuol dire che al suo canale si iscrivono tanto per ma in realtà apprezzano molto di più il nostro canale assolutamente quindi la batteremo di sicuro e secondo me nel prossimo episodio ci riusciamo e ce ne andiamo nello spazio e prima di finire il video andiamo a salutare gli altri nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Lenny, Imad, Fabio, Mark, Marika e Just Messy ciao ragazzi grazie mille per la condivisione beh ragazzi il video vi faccio così se vi è piaciuto scendici un bel like e se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao 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 ciao